Un viaggio tra sogno e realtà, tra mistero e rivelazione, tra speranza e consapevolezza. Un itinerario accompagnato da Maria, madre di Dio, per far ritorno alla casa del padre, quello che propone lo spettacolo Sotto la Stella, scritto e diretto da Michele Albano, che sarà portato in scena venerdì 8 gennaio alle ore 20 al Cineteatro Marconi di San Cataldo dall'Associazione Quarta Parete. Un recital musicale che vuole essere anche un invito ad alzare la testa e guardare in alto verso il cielo, verso i propri sogni e le proprie speranze, così come è stato sottolineato durante la conferenza stampa di presentazione a Palazzo delle Spighe. Sotto la Stella è in genere un messaggio di buon auspicio. Restare sotto la Stella significa avere speranza, credere in un futuro che ci porti delle novità inattese ed importanti. Le stelle sono servite da orientamento, hanno aiutato gli uomini ad interpretare il futuro, ma le stelle servono anche ad esprimere dei sogni. Per chi crede c'è una stella di riferimento, è appunto Maria, che però, ancor prima di essere una figura di santità, è una donna. Come tale vogliamo raccontarla, questa stella che calca la terra e che può illuminare ciascuno di noi. Uno spettacolo post-natalizio ricco di emozioni che apre il nuovo anno dell'Associazione Quarta Parete, espressione della sinergia di più realtà culturali che vogliono valorizzare i talenti locali e il territorio. Da qui la scelta della locandina che raffigura la torre di Palazzo Galletti, emblema di San Cataldo, con i suoi concittadini illuminati dalla stella, simbolo di buon auspicio per il nuovo anno. Siamo un bel gruppo di giovani, formati da 30 ragazzi, più la corale Don Bosco, diretta al maestro De Neri Riggi, con 15 elementi femminili. In più la scuola di ballo Coros, diretta alla maestra Chiara Vancheri. Siamo un bel gruppo, abbiamo scommesso per un nuovo progetto, per un nuovo rilancio dell'Associazione, un rilancio che apriamo le porte, diciamo, a tutte le realtà sangataldesi e il nostro territorio. Sì, effettivamente quest'anno siamo riusciti a mettere in scena più di 30 eventi. Abbiamo accolto con grande passione l'iniziativa di Quarta Parete di voler realizzare questo musical, la quale hanno lavorato già da 3-4 mesi in continuazione. Un musical particolare che è riuscito, tra le altre cose, a mettere in atto un qualche cosa che noi, sin dall'inizio della nostra amministrazione, abbiamo sempre voluto instillare nella testa della gente. Mettere assieme più competenze. Sono riusciti in parti e quattro parete a coinvolgere tanti artisti locali, con musicisti di primo ordine, tanti artisti e soggetti. Un'iniziativa molto bella, un'iniziativa che valorizza ancora di più le eccellenze di San Cataldo. Invito tutti i cittadini e non ad essere presenti venerdì, poiché si tratta di uno spettacolo unico che ne vale la pena veramente vedere.